Vado, eh, qual'era la domanda? Grande festa alla corte di Francia C'è nel regno una bimba in più Bion di capelli e rosa di guancia Oscar ti chiamerai tu Ah, allora l'antica mia sciapiniera è nata Per risolvere un problema attavico Che hanno tutti Che è la mancanza di tempo Cioè, tu pensi quanta gente che dice Beh, come va se avessi delle giornate di 48 ore? Tutti hanno questo problema del tempo Allora noi abbiamo cominciato Con i sciapini Lady o lady, lady Oscar Quando passi tu Lady, tutti fanno festa Da Parigi in giù La tua spada Mischia e non delude mai Anche nella Mischia a vincere tu sai Perché se pensi ascoltare due canzoni Invece che una C'è un risparmio del tempo del 50% Chi è che ti dà un risparmio del tempo del 50%? Ci fa il cuore accia io Ci fa il cuore accia io C'è il cuore di un ragazzo che Quello che esegue Io sono l'addetto al crowdfunding Quando noi abbiamo cominciato io ci ho messo il grano Poi il grano era poco Quindi facendo il crowdfunding per finanziarci Ma siccome non sono capaci tanto di ciapinare sul computer Allora faccio crowdfunding sul campo Vado direttamente in stazione E chiedo insomma a chi passa C'hai un euro, c'hai due euro, sei cose qua Abbiamo raccolto già 28 euro Proprio una settimana Quindi siamo contenti Un altro motivo per cui noi abbiamo cominciato questa avventura con l'antica messa peria E' che la rivendita di auto radio usate Non era più sostenibile come business Abbiamo comprato E cazzo Abbiamo comprato un cazzo So che siamo dei gradi digitali